Gli avvocati Zizza, Romano e Ruta hanno illustrato il contenuto della sentenza del Tar del Lazio che ha accolto i ricorsi proposti dalle emittenti televisive locali contro la graduatoria dei contributi pubblici stabilita dal governo per l'anno 2022. Il Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aveva prodotto per l'annualità 2022 una graduatoria per l'assegnazione dei contributi pubblici destinati a 160 emittenti televisive locali, qualcosa come 100 milioni di euro da ripartire secondo alcuni criteri alla base del tutto, ma scegliendo di destinare il 95% del totale alle prime 100 emittenti e il restante 5% da assegnare alle restanti 60. Un criterio che è stato contestato da molte di esse, producendo un ricorso con delle motivazioni che sono state accolte dal Tar del Lazio, ribadendo una sentenza iniziale ed analoga del Consiglio di Stato e che sono state illustrate dagli avvocati Margherita Zizza, Massimo Romano e Giuseppe Ruta. La norma che prevede che il 95% delle risorse sia stanziato in favore di sole 100 emittenti, ovvero delle prime 100 classificate, è una norma illegittima evidentemente. È illegittima proprio perché viola il pluralismo e quindi i principi che la riforma era, diciamo così, finalizzata a preservare. In realtà li viola creando una disparità tra grandi gruppi e piccoli gruppi. Il Ministero ha sbagliato di nuovo, cioè per l'ennesima volta, nonostante le pronunce del Consiglio di Stato passate in giudicato, hanno continuato ad applicare una norma che è stata già ritenuta illegittima e già annullata. Quindi, per effetto dei ricorsi che abbiamo proposto nell'interesse di decine di emittenti televisive locali distribuite su tutto il territorio, oggi finalmente riotteniamo giustizia e quindi il Ministero dovrà, ancora una volta, anche per l'annualità 2022, dopo averlo già fatto per 2016 e 2017, dovrà rimodulare questi contributi, dovrà richiederli indietro rispetto a chi ne ha già beneficiato e finalmente saranno rispalmati nei confronti di tutte le emittenti televisive per ripristinare due principi, pluralismo dell'informazione e concorrenza nel settore radiotelevisivo. Il tentativo del Governo di portare avanti questo principio, che era sbagliato perché era finalizzato a concentrare l'informazione anziché a distribuirla in modo eco e plurale, venne portato avanti non solo nell'applicare questo decreto oltre le annualità nelle quali fu già sindacato come illegittimo, ma nel trasformare questo decreto in legge, il che rafforzò chiaramente il principio dal punto di vista formale, cosa che ha in qualche modo obbligato gli interessati per l'annualità 2019 a ricorrere comunque al Tarma e a sollevare questioni di costituzionalità sulla base degli stessi principi che erano stati già censurati chiaramente sia dal Targa e dal Consiglio di Stato. Quindi si è trattato sostanzialmente di una grave procedimentale che sposta un po' più avanti il termine per la tutela di questi diritti ma probabilmente non lo esclude e quindi oggi resta ancora aperta per l'annualità 2019 la questione relativa a questa annualità e quindi alla questione di legittività. Tra l'altro ci fu anche un'altra vicenda che fu sollevata contemporaneamente che è rimasta un po' appesa ma perché non c'è stata necessità, quella dell'Auditel, cioè le certificazioni che permettevano di acquisire un punteggio maggiore all'interno della graduatoria. Questa è stata una questione affrontata dal Consiglio di Stato che in qualche modo salvaguardando l'Auditel ha salvaguardato queste forme di accreditamento ma con delle grosse criticità che riguardavano la presenza all'interno di Auditel di altre società che facevano lo stesso lavoro che erano operatori del settore regolatori sostanzialmente. Però questa è una questione un po' allatere che resta aperta ma probabilmente verrà ripresa in futuro.